Caledoscopiche, spensierate e divertenti, le girandole multicolor di Pietrasanta in poche ore sono già star de social con centinaia di foto, post, commenti e condivisioni. La nuova installazione, promossa dal Comune, farà da simpatica cornice alla città nei prossimi mesi estivi un messaggio di leggerezza ed insieme allegria dopo mesi di restrizioni e grigiore. 1.200 le girandole che saranno appese lungo la centralissima via di mezzo nel centro storico, in via Versili a Tonfano e lungo gli oltre 300 metri del pontile in un gioco di colori e fantasie che vuole riportare all'atmosfera spensierata dell'infanzia. Così come è stato per gli ombrelli e successivamente per le farfalle e le altalene, iniziative di grandissimo successo mediatico, la scenografica nuova installazione è destinata a veicolare e promuovere, soprattutto attraverso la potenza spontanea dei social, la straordinaria vitalità della piccola Atene. 2.200 le girandole